Avvocato ma se mi faccio il pezzotto per guardare le partite che cosa rischio? Esposito buongiorno guarda che farsi il pezzotto è un reato rischi una pena da 6 mesi a 3 anni di reclusione e una multa da 2500 a 15500 euro Ah quindi pure farsi il pezzotto è reato allora? Sì Esposito è un reato, un reato previsto dalla legge sul diritto d'autore Eh sì Avvocato io questa cosa non la sapevo Guarda Esposito che tu questa cosa l'avresti saputa se mi avessi seguito su TikTok e su tutti gli altri social